Buon martedì 20 di dicembre Buon martedì 20 di dicembre Fantasia Optical Con le tonalità del verde Bella Il tessuto è Giorgetto Quindi fantastico da mettere come sotto giacca Da mettere sotto un bel cardigan Da mettere anche sotto un maglioncino Ma anche da lasciare da solo Magari con una canottierina sotto Per stare un pochino più calda Veste benissimo Poi ovviamente dipende dal freddo che sentite Io ci metterei anche una magliettina sotto Per il freddo che sento ragazzi Guardate che delizia Cuoricini Perché a Natale Siamo tutti più buoni Siamo tutti pieni d'amore Guardate che spettacolo Sempre la maglia con la camicia In Giorgetto con il nodo Quindi sempre con una taglia ottima Questa anche per chi porta Una quinta di seno Ragazzi i bottoncini si possono aprire tranquillamente E nella versione Con il latte Con la base nera E nella versione Con il caffè E la base nera E poi Camicia In Giorgetto Il tessuto è sempre quello La vestibilità Anche di questo modellino qui È eccezionale Rimane un pochino più sagomatina Quindi anche per le taglie Un pochino La camicia un pochino più sagomata Guardate che spettacolo Base blu Inchiostro Con il fucsia Effetto Barbie Con i cuori Base viola Con i cuoricini verde acido Base nera Con i cuoricini Caffè E poi ancora New entry La fantasia Optical Ricordate che mette anche un po' Damascato Guardate che bella questa qui Fantasia Che abbiamo anche Color jeans Bella bella E poi di nuovo disponibile L'animalie E nella versione maculata E nella versione zebrata Poi mi sono ritornate di nuovo disponibili Che stavano per finire E che quindi le abbiamo riassortite Di corsissima Le camicie in georgette Quelle in taglia unica Anche questa qui Che è fantastica da mettere Anche sotto Lo scaldacuore Pelosetto Proprio come abbiamo fatto in vetrina Tant'è che siamo andati Di corsa A prendere Gli scaldacuore Gli scaldacuore Pelosetti Perché ragazzi Li state mettendo Sopra i vestiti Sopra le camicie Sopra tu E li state anche regalando Perché comunque È una taglia unica Si può regolare tranquillamente La vestibilità è perfetta L'effetto è perfetto Perché comunque Il tessuto È quello Pelosetto Che tiene caldo Senza andare A ingoffare Assolutamente Ce l'abbiamo quindi Di nuovo disponibile Nella colorazione nera E li sto andando Anche a riprendere Gli ultimi Che ci sono a magazzino Me li prendo tutti Quindi mi raccomando Correte Guardate che spettacolo Questo blu Elettrico È bellissimo Questo con il bianco Mmm Mamma Quanto mi piace Cioè Guardate quanto è bello Questo blu elettrico Da mettere Pure Sopra Questa connellina Scozzese Che poi Ce l'ha lo Scozzese Questa lineetta Blu elettrico Guarda un po' Come sta bene Che è completino Bello 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 Vabbè Allora Quindi Questo mi è ritornato Di nuovo disponibile Come mi sono ritornati Di nuovo disponibili Per Tata Per tante di voi Ragazzi Ma anche Per Stefania E per Tatiana Il leggings Glitteratino In nero Mi è ritornato Di nuovo Disponibile E poi Guardate Cioè Vabbè Ve lo spoilero Domani mi vedete Vero che si dà con questo Ma quanto è bello Ma quanto è bello Questo pupazzetto di neve Con questa Ghirlanda Non è delizioso Domani vediamo Questo indossato Perché ve lo prendo subito Disponibile In bianco E disponibile Anche Nella Versione Nera Ragazzi Mi raccomando Sbrigatevi Perché A magazzino Sta finendo Tutto ciò Che è A tema Anche questa robetta Qui Sta finendo tutto Quindi mi raccomando Chi prima arriva Meglio alloggia Perché io sto svuotando I magazzini Quindi Correte E poi Vi dico Che mi sono ritornate Le dolce vite Già l'ho finito Anche nella versione Bianca Che domani Rientra In tarda mattinata Dolce vita Basico Di nuovo Disponibile L'assortimento Delle sciarpe Ragazzi Perché ve le state Anche regalando Anche voi Personalmente Ve le state regalando Avete ragione Io pure Le sto facendo Un'incetta Me le sto prendendo Un po' Di tutti I colori Perché sono Misto viscosa Quindi tutta fibra Naturale Soffici Belle e ampie E ci si può Lavorare sopra Per farle Belle avvolgenti Oppure per metterle Sopra un cappottino Tinta unita Ragazze Un colore più bello Dell'altro E queste poi Soprattutto la versione In tinta unita Sono unisex E quindi Ottima idea Regalo Anche per i nostri Boys Allora Ragazze Velocissima Vi faccio vedere Il mio look of the day Di oggi Perché che faccio Non ve lo faccio vedere Certo Come fare A non farvelo vedere Anche perché Guardate quanto è bello Sto maglioncino E poi ragazze Entusiasta Oggi un freddo boia Con questo maglioncino Sono stata Benissimo Aspetta che giro la fotocamera Parliamo del Modello Leggermente a cassetto Che rimane Bello morbido Che è il collo Con il taglio Effetto Taglio vivo Collo Che rimane Molto morbido Anche questo Quindi non vi va Assolutamente A stressare Modello Che ha Questi Puà Tridimensionali Tonno su tono Senza andarvi A dare fastidio Che però Movimentano Il maglioncino Che ha Tre colorazioni Il verde Un pochino più scuro Il bianco E il verde acido Però ce l'abbiamo Disponibile anche In altre colorazioni Quindi andiamo dietro A scoprire Quali sono I colori Di questo maglione Che sono ancora Disponibili Eccolo qui Infatti era un decisa Pure su questa Di tonalità Oltre alla versione Con il verde Ce l'abbiamo Disponibile E nella versione Con il nero Il bianco E il grigio Ragazze Taglia unica Morbido Soffice Misto Viscose modal Ultra morbido Ultra compatto E quindi Non si va A creare Quell'effetto Delle pallini Che è fastidiosissimo La lunghezza È quella giusta Perché mi arriva A metà cia pet Però oggi ragazze Per il freddo E per la comodità Soprattutto Ho deciso Di rimettere I pantaloni In ecopelle Quelli con l'effetto Duta Quelli che hanno Il polsino sotto Che sono ancora disponibili Sempre in promo A 14 euro e 99 Che sono Veramente fantastici Perché sono pure Felpati Sotto vabbè Come al solito L'avete visto L'anfibio Quello stringato Con i lacci In promo Ragazze Che ve lo devo dire E poi Ce l'abbiamo ancora Disponibile E mi stanno anche Ritornando Perché ragazze Oggi pure queste Sono andate tantissimo Parliamo delle Dolce vita In maglina Che abbiamo In promo A 7 euro e 99 Taglia unica Disponibile E nella versione Un pochino più aderentina Quindi nelle taglie Un pochino più piccole E sempre in promo A 7 euro e 99 Nella versione Un pochino più ampia E quindi Per chi è Un pochino più formosa Comunque vuole essere Un pochino più comoda E non sentirsi Troppo fasciata Vabbè ragazze Allora 19 e 47 Circa Il punto vendita È ufficialmente chiuso Vado a finire Di farmi La mia bella Lissarella Ragazze Ci vediamo Domani mattina A partire dalle 9 e 30 Sarò qui Presso il nostro Punto vendita E poi nel pomeriggio A partire dalle 16 RGN Lovers C'è Da Manuel a tutto Buona serata Mi raccomando Occhi aperti Ci vediamo Ciao Ciao